Questa mattina su Radio Sound Piacenza 24 abbiamo l'onore di ospitare il professor Alessandro Capucci, professore ordinario di malattie cardiovascolari e per molti anni direttore della clinica di cardiologia dell'ospedale Le Torrette di Ancona e poi anche organizzatore di vari progetti internazionali e autore di numerose pubblicazioni medico-scientifico. Buongiorno professor Capucci. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Sound. Dunque noi abbiamo il piacere di averla qui con noi perché proprio recentemente il 2 novembre scorso è stato pubblicato un lavoro scientifico molto importante sul coronavirus e credo che io sono la persona sicuramente meno indicata per parlarne, lei è qui per questo e quindi ce lo spieghi magari anche con parole povere. Sì, grazie di questa opportunità è un lavoro internazionale, il primo autore è Zuo, che mette in evidenza qual è la causa della patologia più severa da coronavirus. È una sindrome chiamata sindrome da antifosfolipidi che è generata da autoanticorpi che vengono innescati da questo virus che come sappiamo ha una catena RNA e che interagisce con degli anticorpi che sono appunto i GG, GMA e GA che una volta innescati favoriscono una coagulazione intravascolare che vuol dire che innescano facilità a coagulazione del sangue sia a livello venoso che anche a livello arterioso e queste sono le componenti peggiori che danno poi quei casi di persone che magari non ce la fanno, che vengono intubate in terapia intensiva, che sono la minor parte per fortuna di coloro che sono venuti a contatto col virus, ma che comunque arrivano a quel punto attraverso questo fenomeno. Ecco, questa segnalazione è importante per, immagino, vari motivi, tra cui anche quello della lotta contro il coronavirus. Esattamente, cioè per l'aspetto pratico che porta, cioè conoscendo il meccanismo si può anche pensare che ci sia una terapia, cosa che è stata fino ad adesso abbastanza posta in secondo piano. Però come questo processo ha dei tempi, i tempi sono abbastanza rapidi, sappiamo per parlare di coronavirus che fra entrare in contatto, sviluppare la malattia ci vogliono circa due giorni, due giorni e mezzo, dopodiché inizia il processo una volta che uno si ammali e questo processo che ho descritto adesso interviene intorno ai tre, cinque giorni dopo l'inizio dello sviluppo della malattia. Quindi, in pratica, questo vuol dire che se vogliamo intervenire avendo le sostanze appropriate, dobbiamo farlo presto. Non aspettare che il paziente arrivi molto avanti, già con dispnea importante, quindi in fase molto più avanzata. Infatti io la domanda che le volevo fare, a termine di questo discorso che è stato decisamente esaustivo, e un po' mi ha imbeccato lei dicendo se dovessimo avere a disposizione le sostanze in grado di bloccare questo processo, ma le sostanze ci sono, sono allo studio? Oppure, per quanto riguarda questo, diciamo, aspetto della lotta contro il coronavirus, purtroppo siamo ancora allo studio teorico? No, in realtà queste sostanze ci sono, cioè la sindrome ad antifosfolipidi non è una novità, cioè è una sindrome ben nota che fa parte anche di altre patologie, e quindi il dipiridamolo, la lattoferina, l'idrossiclorochina, che è stato uno dei farmaci più contestati in questi ultimi mesi, sono farmaci utili. Come dicevo, il punto è il timing. Allora, se noi andiamo a vedere i dati contrari all'impiego, ad esempio, dell'idrossiclorochina, vediamo che questi dati derivano da studi nelle quali l'idrossiclorochina era stata utilizzata o come profilassi alla malattia, cosa assurda perché non è un vaccino, oppure come terapia in fase avanzata, quando i pazienti avevano già la malattia da più di nove giorni, e quindi erano in una fase in cui nessun farmaco a quel punto ha grandi probabilità di efficacia. Il punto cruciale, invece, è l'intervento rapido, e qui esistono dei dati, che anche noi abbiamo pubblicato un lavoro con 350 pazienti, un altro gruppo italiano, più di 2000 pazienti, che dimostrano che se si trattano i pazienti precocemente, ai primi in sorgenza dei sintomi, a domicilio, con questa idrossiclorochina, la probabilità di arrivare in terapia intensiva è bassissima se non assente. Quindi vuol dire che non si riesce, stante l'impiego di questo farmaco, a produrre questa sindrome di antifosfolipidi, che è quella che genera poi problemi maggiori. Professor Capucci, lei è stato chiarissimo, ci ha aperto un mondo, possiamo dire, o perlomeno ce lo ha spiegato in una maniera molto chiara, e noi la ringraziamo per questo, e a questo punto le auguriamo una buona giornata, ma soprattutto buon lavoro. Grazie, grazie, buone cose anche voi, buon proseguimento. Era il professor Alessandro Capucci, professor ordinario di malattie cardiovascolari, che è stato ospite questa mattina ai microfoni di Radio Sound Piacenza 24.